Salve a tutti ragazzi, qui ritorno nel vostro Gabricio e qui siamo in un nuovo video Oggi siamo qui, un secondo che inquadro la telecamera Oggi siamo qui ed è inutile dirvi la categoria di video che andremo a fare Si vede già da questi due pacchetti Quindi oggi, sì, siamo ritornati con gli spacchettamenti Allora, volevo prima di iniziare il video dirvi due cose molto rapide Allora, primo che in pratica sto registrando gli episodi di Pokémon Ultra Sole E visto che il mio telefono ha quasi la memoria piena E non posso, possiamo dire, quasi più registrare in questo video Probabilmente cambierò telefono Quindi cercherò il più possibile di trasferire tutto quello che ho fatto finora nel mio telefono In quello che mi arriverà Spero soltanto che rimanga tutto Così posso continuare con i video sul canale Ok ragazzi Seconda cosa, so che appena è uscita la nuova espansione Quindi c'è un pacchetto a proposito di questa espansione Sto registrando proprio alle 8 e un quarto Ma il video verrà postato domani verso le 7 Quindi mi raccomando Mettete un sacco di mi piace E iscrivetevi al canale Possiamo rivelare le bustine e non più tenerle girate Bene, quindi La prima è Furie Volanti It's non Furie Volanti L'ho presa così a caso Avevo 10 euro quindi ho detto Prendiamo la nuova espansione Anche una bustina a caso E poi Apocalisse di Luce Allora Voglio dire delle cose su queste espansioni È davvero un'espansione bella Si trovano delle jets stupende E anche le prisma da quanto ho visto E da quanto ho capito C'è anche Ultra Necrozma Jets Sarebbe bello trovarla Però una delle carte più belle che vorrei trovare Sarebbe E' proprio Volcanion Prisma È davvero spettacolare Oppure Archeos Le prisma qua sono uno spettacolo Spero di trovarne almeno una Se non ne trovo pazienza E' cominciamo subito ad aprire questi pacchetti Bene Iniziamo Vi avrei promesso la La team di Marshaudor Ma Deve arrivare Hanno avuto un problema quindi Però Siete comunque Un bel Come dire Un bel Un bel Un bel negozio online Ok Bene il codice Allora Vabbè Do solo quello di fuori volanti Perché voglio Voglio anche le carte sul G10 Quindi Vuoi un codice Che tra poco lo strappo Quindi Guardatelo Bene E Addio Bene Ora possiamo iniziare Cominciamo Ah si giusto Mi dimentico di trick per ora Ok E poi se non sbaglio Uno Sì Uno Va bene Non so come erano Comunque Fletch in there Poi Ultra ball Link Linkash Giusto Warplay Tilo Electrive Wagon Pido Pikachu Reverse E Absol Olo Che non è male Però volevo trovare qualcosa Di bello Comunque Non Non scoraggiamo Se abbiamo ancora Il Pacchetto di Apocalisse Di luce Quindi Però Questo Pikachu È Spettacolare Bene Ora Speriamo Il meglio In meglio E cerchiamo Di trovare qualcosa Di spettacolare C'è Raga L'ansia Per questo Pacchetto Intanto Non riesco Ad aprirlo Ed è un problema Perché Lo devo Aprire Ah ok L'ho aperto Però così In questo modo Che non so Se riesco A prendere Le carte Credo fossero Facili Di aprire Invece Questi Di sole E luna Di tutta La sera Invece E dai Vabbè Intanto Che ci metto I sei Quindi volevo Di Vabbè Volevo dirvi Anche Che in pratica Da quanto Ho capito E Basta Con questo Non dovevate Vederlo Mannaggia A me Vabbè Lo riscatterò Prima che Qualche Furbettino Lo posso Riscattare Ok Tricks Queste Quattro È uscito Un gioco Per switch Sta per uscire Su Su Pokémon Non so Se riuscirò A portarvelo Perché Non so Quindi Vabbè Energia Metallo Me Me Spirit Che comunque Ci sono Noi Pokémon Quindi Fossile Sconosciuto Allora Questa Carta È In pratica Come Dire Allora Questa Carta È Un Credo Sia Speciale Però Credo Sia Ci Sia Necessario Un'altra Carta Non Mi Ricordo E Non Ho capito Niente Su Questa Carta Vabbè Azi Magmite Skrillp Furfrù Lit Leo No Allora Ho visto Ho visto Qualcosa Se non è Sì Ho visto Qualcosa Allora Ragazzi Ora Voglio Assolutamente Sperare Che sia Ultra Necrozman Jets Se no Chissene Ora Vediamo Spero Soltanto Che non sia Un falso Sì C'è Qualcosa Aspettate Inquadro Bene C'è Qualcosa Si Vede Ora Vediamo Krohngun E Greninja Jets Oh My God C'è Oh Mamma Mia C'è Oh Mio Dio C'è Tutto Oh Mia Oh Mio Zio Tutto Allora Come Come È Possibile Che In queste Espansioni Riesca A Trovare Sempre Qualcosa Al Primo Tentativo Greninja Jets Che Tra L'altro È una bellissima Carta Avessi le loro Basi Ovviamente Potrei usarla Per creare un Mazzo Però È una bellissima Carta Comunque Io adoro Il liscio Delle Jets Hanno fatto Un ottimo Lavoro A creare Queste Carte Comunque Speravo In qualcosa Di meglio Ma Non Devo Lamentarmi Perché Non Si Sa Allora Non Mi Devo Lamentare Perché Una Volta Ho Aperto Una Teen Senza di voi Quando Mi sono Lamentato Perché C'era Una Hets Che non Era Abbastanza Che voleva Un'altra Hets Poi Non Ho Trovato Niente Nelle Altre Teen Che Ho Perdo Sto 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 parlando Sto parlando Di anni Passati Comunque Greninja Gets Allora Questa carta È bellissima L'unica Cosa Non è male Però Questo attacco Aspetta Infligge 130 danni A uno dei tuoi Allora Oh my god Quindi Questa carta È Si È potente Quindi Ci sta Allora Come ho fatto A trovare Su Sulle espansioni Ultra Ultra Prisma Apocalisse Di luce A trovare qualcosa Beh Diciamo che la prisma Su Ultra Prisma Non è che sia Così rara Però Diciamo che ci sta Un po' di rarità Allora Mi piace davvero Un sacco Questa carta Ora Infatti Prenderò L'accoglitore Però Comunque Si vede il riflesso Se faccio così Comunque Scusate Un colpo di tosse Ma Non importa Riprendiamoci Riprendiamoci Ok Allora Bella carta E Niente Davvero Io Adoro Io amo Il liscio Delle carte Jets Oh mamma Ah Ora che abbiamo trovato Questa Jets Mi 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 sento abbastanza Carico Per il video Di domani Con l'ultrasole Che comunque Ho scoperto Dove si trova Il posto Dove dobbiamo andare Quindi Questa bellissima Jets Che metterò Poi a posto Nell'accoglitore Che Vi ho Si Lo so Vi ho promesso Il video Dove vi mostro Le carte Però Voglio completare Quei quattro spazi Rimanenti E questa carta Può fare D'aiuto E anche Dove era Questo Pikachu Che ci sta Lo sapete Che amo Pikachu Quindi E' uno dei miei Pokémon preferito Però In primo piano Sta Ampharos Ok Allora Sono contento Per Green Jets E ora basta Ripeterlo Perché Quando trovo Una cosa Continuo a ripeterla Per Per la felicità Comunque Adoro il liscio Basta Ok Non so Trattenere Questa mia Sensazione Ok Allora Noi ci vediamo Domani con Ultrasole Sapete Si L'ho già detto Inizio video Questa questione Nei caricamenti E del telefono Allora Non so Se riuscirò A postare Il video Domani C'è Di Ultrasole Domani Alle 7 Pubblicherò Posterò Questo Quello Sto Dello Spacchettamento E poi Verso Verso Un orario Pomeridiano Pomeridiano Si Caricherò Quello Di Ultrasole Così siamo A posto Vedrò se riuscirò Però A poterlo Postare Perché Ve l'ho già detto Questa questione Del Della memoria Di questo Del mio telefono Comunque Io vi saluto E noi ci vediamo Nel prossimo video Nella speranza Di riuscire Credo che Dobbiamo battere Su iron Però Questo ne parleremo Domani E volevo dirvi Prima di concludere Il video Che ho scoperto Come scannerizzare I pokemon Però Allora C'ho Il codice Di Ivelten L'ho preso L'uno Ma Il due Credo Però Questi Questi codici Dei pokemon Che Leggendari Che uscivano Verso I diversi Mesi Credo Di non farlo Con voi Però Da solo E poi vedremo Cosa fare Comunque Io vi saluto E l'ho già detto Vi ricordo Di iscrivervi al canale Di lasciare Tanti Mi piace Per la jazz Anche E di commentare Se volete Altri spacchettamenti Perché Ovviamente Su youtube Ci sono un sacco Di ragazzi Che fanno Spacchettamenti Quindi Ho detto Però Però Io faccio Io faccio Prima Facevo Dei video Dove Esultavo Come fanno Tanti ragazzi Poi Quando Qualcuno Esulta Tipo Uno Stupido Tipo Poi Nessuno Gli mette Il mi piace Perché sembra Un babbeo E non voglio Sembrare un babbeo Quindi Spero che L'ho capiato Quindi Mi piace Mi piace E Tanti Mi piace Quindi Possiamo anche Salutarci Oh mamma Eh sì L'ho già detto Un sacco Quindi Meglio Salutarci Ciao